Dimmi tu, com'è andata la vacanza qui a Canazzei? Bene Ti sei divertito Sì Com'è andata la vacanza qui a Canazzei? Bellissima, 7 giorni indimenticabili, stupendi Come è andata la vacanza? Allora, è stata bellissima, ho conosciuto un sacco di persone e un sacco di effetti di magia, quindi vuoto 10 Ci tornerai? Certamente Vacanza a Canazzei, ci tornerai? Sì Spiegami perché, ti è piaciuta? Sì, c'è tutto lo sport e la magia, ho imparato tanti nuovi trucchi Ma il camp è stato fischio, è figata, che devo dire? A me è piaciuto molto questo camp, tantissimo, come l'anno scorso perché ci sono già torno venuto e l'anno prossimo ci verrò sicuramente La vacanza qui a Canazzei, ci tornerai? Meglio di nuovo, per voi e non per me, io ci tornerei volentieri, però tutti non mi vogliono Jack, la vacanza qui a Canazzei, ci tornerai? No, mai più, Massimo Bravo, bravo, meno male, non osavamo dirti che non ti rinnoviamo il contratto Abbasso, basta rinnovare, chiudete tutto, qui non ho più niente Grazie di tutto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.